Sì, però non ce li fanno vedere più di assieme. Questo è il ritardo. E' un po' lì. E' un po' lì. Ma la facciamo da finare una volta la mano? No, finora ho fornato. Io voglio adesso un attimo fa. Sì. Sì. Arriva. Questa volta che dice un indirizzo... ...per quello che l'abbiamo.